Atenzione! Atenzione! Dove ci stiamo infilando? Siamo nel cuore della sel. Hanno mille o due mille. Ehi, Chef. Piantala coi, Chef. Gli alieni sono andati. Dovresti saperlo ormai. Lì dentro! Dimmi che non scherzo. Avanti, Psycho! Muoviamoci! Avanti, avanti! Fatti vedere in faccia! Mi hai strappato dalla mia tuta ora! Fatti vedere in faccia! Psycho, andiamo! Ti troverò. Ti troverò, cazzo! Lo sai che quando ti strappano la tuta sei cosciente? In molti sono morti urlando. Il loro cuore non ha retto il dolore. Cazzo. Avanti. Andiamo. Ok, ti copro io. Vediamoci sul lato lontano. Ho usato lontano. A tutti i settori! Adesso! Inizio! Chiaro, vivi stanza traversando il perimetro. Soffrimenti i versani! Contro la dimostruttura! Roger! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei tutto in rifiutata. Ti teniamo sottotiti. Ora resta in modo, se non vuoi che ti faccia a pezzi. Riusciremo a stannarti, proprio. Grazie a tutti. 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 Sicuro di farcela da dove ti trovi? Falla finita. Non mi serve una puttade cazzo. Procedi. Ci vediamo più avanti, ok? Ricevuto. Ci muoviamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi hanno presa. Mi hanno presa. No. Che cos'è? Controllo? 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 Continuate. Vieni con l'ordine di motel. Vieni con l'ordine di motel. E' sbalito! Muoviamoci! Stai in campana! Ah! Non ci vediamo il battaglio! Mi guardo le spate! Converto il battaglio! Vieni fuori, affrontaci, codardo! Era un po' l'obbrio qui! Controllata dappertutto. Probabilmente è occultato. Il bersaglio è qui! Uomo falso! Avanti! Non ci vediamo! Non ci vediamo! Andiamo! Non ci vediamo! Non ci vediamo! Non ci vediamo! L'obbrio è lì, ha un uomo! Partugliate la zona. Signalate qualunque voto sospetto! Psyko, procedo alla prossima area. Psyko? Sì. Ricevuto. Psyko. Questo è pronto. Non stiamo parlando di una banda di ribenti. Sì, sì. Spondi una porta aperta. Ho trovato uno dei nostri. Mori. 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 No. Di forza! Le difende perimetrali finiscono qui. Non so si speran di. Sì, sì, sì. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non è qui. Ripulire la zona! Sono in... Cosa succede qui? Non deve sfuggirci. Via! Vieni fuori, affrontaci, codardo! Controllate l'apertura. Probabilmente ho un vuotato. Nessun segno. Contatto! 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 Ci sono quasi. Continuiamo a cercare! Avanti! Contatto! 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 Vieni fuori e affrontati, cosacchi! Guardi strada, no! 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 Ah! Vieni fuori e affrontati! Una volta dentro ci incontriamo con i miei. Hai dei tuoi adesso. Mi conosci, mi è sempre piaciuto il gioco di squadra. Non vado da nessuna parte finché non mi dai delle risposte. Sì, mi ricordo. La maggior parte è schiava dei debiti. La Sel possiede la nostra energia. Tutta. Se non puoi pagare le bollette, devi lavorare per farlo. Naturalmente è impossibile riuscirci. Questo è il trucco. Rimani a vita nel programma Lavora per il Debito. Non c'è altra scelta. No, una c'è. Combattere. Guarda, ti faccio vedere cosa ha fatto la Sel mentre tu dormivi. Forse allora capirai. Benvenuto a New York. Versione 2.0 Cosa hanno fatto? La città ha una traccia energetica. Ma perché? E la Sel assorbe energia dalla tecnologia aliena. La rete energetica mondiale viene alimentata da una sola macchina Chef nel Dome. È troppo semplice. E invece sì. Niente energia, niente Sel. Ed è fatta. No. Chef Alpha mi ha mostrato una visione. Non è la prima volta. Deve pur esserci un collegamento. Profet. Gli alieni sono andati. Li hai distrutti tu stesso. È rimasto solo qualche superstite. No. C'è dell'altro. Ascolta. Mentre tu davi la caccia a un super alieno immaginario, la Sel pensava a conquistare il mondo. Ci serve che torni qui e subito, capo. Abbiamo bisogno di te per fermare la Sel. Non esiste solo la tua rivoluzione. Io ho visto. La Sel sta giocando con un potere che nemmeno immagina. Qualunque cosa stiano facendo, sarà la fine del mondo. Dobbiamo fermarli. Cazzo se li fermiamo. Su, andiamo. Cazzo. Macchinario intatto. Inizializzo velocità terminale. Ricevuto Romeo 1. Hai liberato il perimetro. Il Liberty Dome è progettato per resistere a una minaccia a Sel. Sei in vantaggio. Le unità Sel preparano un contattacco. Secondo i nostri caicoli hai circa 3 minuti. L'area evidenziata è ancora valida. L'attività di terra Sel è minima. Ma le torri sono operative all'1%. Occhi aperti. Devi riportare il macchinario alla base. europe. Logo aспirsi a continuare.